Siamo con Maria Grazia Gianforte dell'Associazione Stop Board Violence per parlare di diritto d'asilo e libertà di movimento, un'iniziativa che si terrà domani a San Demetrio alle 17.30 nell'istituto scolastico, l'istituto comprensivo della frazione Aquilana. Ecco, qual è lo scopo di questa iniziativa? Allora, lo scopo è raccogliere dei dati e anche riflessioni e suggerimenti su come ci si organizza a livello locale per l'accoglienza ai migranti che hanno bisogno, hanno una serie di bisogni, quindi bisogno all'istruzione, al lavoro e alla casa. E quindi abbiamo pensato di vederci in una serie di incontri di cui il primo è domani alle 17.30 presso l'istituto comprensivo Cesira Fiori di San Demetrio. Saranno presenti dei direttori scolastici, presidi e anche esponenti dell'associazione locale, tra cui anche un'associazione di ragazzi migranti che si chiama Assia, sulla cui partecipazione ci teniamo particolarmente. Il prossimo incontro poi ci sarà il 15 di marzo, ma ne parleremo a tempo debito.